Scusate La mia scuola 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 Ok, quindi potete scusare che questo non è il tema normale della classe non è il tema normale durante le lezioni ma ma spero che quello che voi avete ascoltato vi possa fare più interessati e andate a cercare di capire un po' di più L'OIDA terapia mondiale è già lì in internet sia in inglese che in spagnolo e è già lì in internet sia in inglese che in spagnolo ed è una vera interessante entrata per essere capaci di venire accettati dagli ordinali cittadini di avere un valido contributo o comunque un valido contributo che è basato sugli insegnamenti del Bhaktivedanta Institute del Bhaktivedanta Institute del Bhaktivedanta Institute e anche dell'Oida Therapia Institute grazie per essere venuti grazie per essere venuti e di essere parte del Terni Yatra e anche dei devoti che vengono come ospiti quindi continuiamo arriviamo al numero 7 e continuiamo arriviamo al numero 7 anche nel matrimonio lo vediamo lo vediamo nelle scuole lo vediamo nelle scuole è un tipo di bambini fa bullismo su altri lo vediamo nelle fabbriche lo vediamo nelle fabbriche tra le razze tra i sessi tra i sessi tra le nazioni la terapia quindi la terapia studia le radici di questo comportamento perchè nel cuore delle persone si fa la domanda perchè mi crei tutti questi problemi la gente si padeva che cosa c'è in te che ti degrada che cosa c'è in te che ti degrada quindi noi ci stavamo soluzioni allora noi diamo qualche soluzione questo quindi Sant'Rica puoi leggere il prossimo punto? Problem numero 7 perché vogliamo distrattare altri dal nostro comportamento da creare un rischio su una situazione totalmente non relativa Gurudev, non ho il cervello posso tradurare ma solo se la periodo sia lunga non membro perché noi vogliamo distrarre gli altri dal nostro cattivo comportamento creando che uno si inventa delle cose per non far capire come stanno realmente cercare di distrarli facendo vedere qualcosa grande equimboci ecco questa può sembrare una osservazione politica ma succede anche a livello famigliare viene chiamata viene chiamata generalmente con il nome politica viene chiamato generalmente e la radice di tutto ciò è la ipocrisia che crea conflitto, false accusations, e anche invention, in false accusation is the same, and utilizes such nasty Machiavellian instruments such as divide to conquer. A volte sembra che sia molto difficile avere a che fare con questa situazione politica. E se uno non fa attenzione, one may end up being sucked into some kind of polarization. Viene attratto da una delle due polarizzazioni. Viene anche utilizzato il concetto di amico-nemico. La soluzione per questo tipo di conflitto politico inizia con un total commitment with impartiality. Commitment with impartiality. Yes, but I don't know the meaning of commitment. It's like a promise. Commitment with impartiality. In a commissione, come qualcosa che viene... Quello che viene... Viene inoculato. Eh, per me. I don't even do it. Okay, ma sì. Okay, ma sì. Inizia con questa... Parola che non so, di impartialità. Significa che tu devi credere in qualcuno Perché lui sta... Stamme up Perché lui difende le sue opinioni A husband is committed that his wife shall be happy You don't have to write all this A husband is committed that his wife should always be taken care of Per esempio, la moglie pensa che... No, il marito pensa che la moglie sempre gli darà da mangiare Scusate, io sto un po' inventando perché non sapendo la lingua Ok, back where we are It also uses the concept of friends and enemies The solution of such type of political conflict Requires a total commitment with impartiality The best attitude is the attitude of the activist of the truth La migliore attitudine è quella di essere attivisti della verità A peace activist Un attivista pacifico He does not tolerate Lui non tolera When When the truth is bended by 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 hidden motivations Quando la verità viene nascosta da... Viene messa da parte da false motivazioni Nascoste motivazioni Questo è un mondo pieno di imperfezioni E c'è un modo popolare di dire Errare è umano Ma è ancora più umano Lamentarsi di qualcun altro E' uno dei sistemi per creare questa situazione E' uno dei sistemi per creare questa situazione Che tu fai vedere i difetti di un altro In modo che la gente non vede i tuoi difetti In questa situazione In questa situazione è necessario mettere un intermediario indipendente Che studia la situazione Che studia la situazione E trova Il modo Di proteggere gli innocenti Di proteggere gli innocenti Quando qualcuno è pretendo dormire È molto difficile Uno che fa finta di dormire È difficile di svegliarlo E se una persona fa delle accuse ipocrite O semplicemente fa attenzione alle difficoltà degli altri Per proteggere se stesso da un'investigazione In questo modo per forza provoca dei conflitti Non dobbiamo dimenticarci Che la maggior parte dei conflitti arrivano Da parte di qualcuno che dichiara Che lui è diventato aggressivo Per l'autodifesa Come misura di autodifesa Per questo che alla gente piace questo Kintin Lami E Mahatma Gandhi Che rimangono nella storia del mondo Perché loro hanno affrontato l'abuso che gli veniva fatto E la loro gente Semplicemente rifiutando la legge E mantenendo una non violenta attitudine Anche a rischio di finire in galerà Anche a rischio di finire in galerà Al più grande scenario politico Ci muoviamo in quell'area Dove queste cose possono succedere Ecco ci spostiamo da quel pianone più grande A quello della famiglia A quello della comunità Come vedete anche io non so la soluzione Io prego per quella Questo è il modo col quale noi dobbiamo affrontare le situazioni Voi dovete meditare nel vostro Gurudeva Cosa avrebbe fatto lui in questa situazione? Non ogni situazione ha l'easy solution Ti puoi prendere la card La shloka E dice Here's the solution Perché non è così semplice Che basta tirare fuori una shloka E hai risolto Dove c'è la politica che influenza il potere A qualsiasi livello La cosa migliore Is that all the parties Who are ambitious Le due parties Di conflitto diciamo Renounce Their ambition for power Devono rinunciare Alla loro ambizione per il potere In order to provide In modo da poter provvedere A platform Una piattaforma Where an impartial group Of peace mediators Dove un gruppo imparziale Intermedia Have to search out the way Di trovare quella che è il modo La soluzione To Give guidance To the administration Dare una guida all'amministrazione L'autocrazia Can work When a loving father Looks after his children Funziona quando c'è un padre amorevole Che si prende cura dei figli Noi vediamo che nei tempi vedici In India In India The kings Il re They were Treating everybody Like they were their children Trattava tutti esattamente Come i loro figli But even in those days Ma persino in quei tempi If a king was behaving wrongly Se il re faceva qualcosa di sbagliato There was a group of level-headed people C'era un gruppo di persone elevate Che lo toglieva dalla posizione di re E' altamente apprezzato Che una persona sia un leader dinamico Ma ci deve essere comunque una piattaforma Nella quale le sue attività vengono discusse E che lui possa essere rimosso Nel caso fosse necessario And for that The peacekeepers have to be trained Peace activists Ah, e per far questo ci vuole Un gruppo di attivisti pacifici And those who are really leaders Quelli che sono realmente leader They must accept and promote this Loro accettano e promuovono questo I veri leader The pacific non-cooperation La pacifica non-cooperazione Is required E' richiesta Especially today Soprattutto oggi Because we are facing One of the biggest hypocrisies Of the history of mankind Perché ci troviamo di fronte Alla più grande ipocrisia Della storia dell'uomo The consumer society La società consumista Is selling pharma drugs Vende ai contadini la droga Which create more addiction And more problems Than they solve Loro creano più problemi Di quelli che risolvono Il cibo spazzatura Il cibo spazzatura Prodotto dall'industria Is selling food In every school And university And making the people sick Vende il loro cibo In tutte le scuole Università E rende il popolo malato C'è tanta cooperazione ipocrita Che l'unico modo Per poter avere a che fare Con ciò E fare E fare E fare Wow E fare un voto Noi dobbiamo fare il voto Di non comprare nulla Da quelle compagnie Che prendono in giro Il pubblico Se voi studiate questo Attentamente Scoprirete che ci sono Molti prodotti Che non potete più comprare E che Uno deve tornare indietro A un naturale processo Per coltivare E prendere le cose Naturali Il segreto di questo conflitto Lies in transparency E la licenza di trasparenza And in self determination To live Dobbiamo essere determinati A vivere In un modo onesto E sano That's all I can say About this point Next point Questo è tutto quello che ho da dire A riguardo di questo punto Andiamo a quello dopo We have We have Yes Because we want to cover up the lies Which we spoke previously Che noi vogliamo coprire Che noi vogliamo coprire le bugie Di cui abbiamo parlato prima Questo è simile al punto di prima Questo è simile al punto di prima Ancora più bugie Ancora più bugie Che cercano di sostenere A traversare le università So called academic So called academic Investigations Le loro Quelle che vengono chiamate Investigazioni accademiche Which are usually Financed Che sono finanziate By the same Hypocritical Corporations Dalle solite Hypocrite Corporations Corporations This is a type of violence Questo è un tipo di violenza And they are also very good In buying judges And buying the press Sono molto bravi A comprare la giustizia E press I giornali I giornali Therefore It is very difficult today To find To expose the culprits Per cui è molto difficile Oggi poter esporre in pubblico Le colpe di questi Ma perché c'è così tanta sofferenza coinvolta E così tanta gente innocente E coinvolta Ogni cittadino Deve avere a che fare Con questi argomenti A un livello più basso Viene detto che le bugie erano le gambe corte Quindi prima o poi Verranno scoperti Però noi vorremmo ottenere La minima quantità di sofferenza La pacifica non cooperazione Con tutti quelli che hanno creato conflitti Che sembrano essere irrazionali Che sembrano essere irrazionali Unreasonable Irragionevoli E non basati sulla verità Noi dobbiamo essere informati Su tutti gli argomenti Su tutti gli argomenti Che riguardano i conflitti Così chiamati Così chiamati Cipi transgenici La manipolazione La manipolazione dell'acqua La manipolazione dell'acqua La agricoltura chimica La agricoltura chimica Vi dovete preparare Che sono prodotti da noi Anche da quelli che vogliono Difendere i pubblici interessi E finché non sarete informati Non limitatevi A quello che vi viene detto Dai mezzi di comunicazione pubblici Se c'è un conflitto a proposito di qualcosa E' come quando il fiume fa rumore Quando il fiume fa rumore Il fiume si muove Dentro ci sono le pietre che si muovono Cosa succede? Che tu non vedi le pietre che si muovono Ma lo senti E' necessario Evitare i conflitti Che provengono dagli interessi cooperativi Per cacciare via l'ignoranza delle persone Allora per sfruttare 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 la mia propria persona Allora per sfruttare la mia propria persona